Ben trovati a questa edizione di Focus Tg, iniziamo con la dura salita verso l'autonomia perché nessuno credo abbia mai pensato che sarebbe stata un'autostrada aperta nonostante il referendum e continuano le diatribe tra il governatore Zaia e alcuni membri del governo 5 Stelle, in particolare il ministro Lezzi. Io penso che la Lezzi non conosca neanche il Veneto e prima di parlare del Veneto è meglio che si inforni. Il governatore Zaia è stato secco e lapidario nel replicare alle recenti affermazioni del ministro per il Sud, Barbara Lezzi, secondo cui il Veneto non avrebbe bisogno di una ZES, la zona economica speciale, in quanto una regione già privilegiata. Riguarderebbe l'area metropolitana di Venezia in cui si vorrebbe far rientrare Marghera e il Polesine, ma al momento, secondo Lezzi, non ci sarebbero le condizioni. Zaia è tornato poi a parlare di autonomia. Il premier Conte infatti ha comunicato che mercoledì la bozza proderà in Consiglio dei Ministri. Ho apprezzato le parole del Presidente del Consiglio, lo potete registrare, penso sia utile da parte sua e abbia fatto bene cominciare a pensare ad avvocare a sé la pratica, perché ho l'impressione che la pratica, se non ha una direzione, rischia di essere una pallina in un flipper, perché abbiamo assistito a delle scene che sono, a dir poco, stucchevoli e anche imbarazzanti. Continuo a sentire esponenti autorevoli di questo governo e di questa maggioranza che parlano del nostro progetto e si capisce chiaramente che non lo hanno neanche letto. Di Maio ha detto che se danneggerà il Sud passeranno sopra il mio cadavere. Bene, ha ragione, non ci sarà il cadavere di Di Maio, non ci sarà nessuno che dovrà passare sopra perché il Sud non sarà mai danneggiato. C'è scritto, fra l'altro sono fatte salve le cause di salvaguardia e quindi tutte le cause per la solidarietà nazionale. Non stiamo chiedendo nulla di trascendentale. Chiediamo che la competenza che Roma oggi gestisce rispetto al Veneto, la dia direttamente da gestire il Veneto, trasferisca le spese che ha, lo dico in maniera banale, per gestire quella competenza, trasferisca anche l'uguale importo al Veneto. Non togliamo nulla a nessuno. Ovvio che noi pensiamo di essere più efficienti di Roma, questo lo possiamo dire. Insomma, un governatore piuttosto scuro in volto. Noi invece andiamo alla cronaca e iniziamo con l'anziana morta in un incendio ad Este. Tragedia della notte a Este, una donna di 96 anni, Diamede Toniolo, è morta vittima di un incendio divampato nella sua abitazione di via Ariosto. Le cause del rogo sono in corso di accertamento, ma sembra che sia stato provocato dal cortocircuito del ventilatore che teneva vicino al letto e da lì le fiamme si sono propagate velocemente al materasso. La vittima, che viveva sola, avrebbe cercato di fuggire verso l'ingresso, ma non ce l'ha fatta. Sul posto i carabinieri della compagnia locale e i vigili del fuoco. L'allarme è stato lanciato verso le 6 dai vicini, preoccupati per l'odore di bruciato che proveniva dalla casa singola abitata dall'anziana. Sono in corso accertamenti da parte degli investigatori. Risolto il caso degli spari contro un camper di nomadi a Villorba. Pochi giorni prima della sparatoria a Villorba c'era stato un furto in un cascinale a Volpago. Erano stati rubati alcuni attrezzi da lavoro, ma soprattutto l'anello della mamma morta quando era ancora piccolo. Un affronto che non poteva assolutamente lasciar perdere. Così il proprietario dell'abitazione, Fabrizio Rizzardo, 46 anni agricoltore, ha iniziato una vera e propria caccia ai ladri. Il motivo principale dell'azione di fuoco risiede appunto in una sorta di vendetta diretta al recupero di un anello che rappresenta per il feritore un cimelio al quale evidentemente era molto legato. Poco dopo Rizzardo, assieme ad un complice, Agrippino Martignago, 55 anni di Povegliano, legato al mondo dei nomadi, aveva identificato, secondo lui, la coppia responsabile del furto, ovvero marito e moglie, entrambi nomadi, sistemati con il loro camper in un terreno privato a Villorba. È iniziata quindi prima una trattativa per riavere l'anello, ma quando marito e moglie hanno negato di aver messo a segno il furto è scattato il blitzer. Il 14 giugno i due arrestati sono arrivati nei pressi del camper ed hanno esploso tre colpi, due sparati all'altezza del letto in cui marito e moglie di 49 e 48 anni dormivano e un terzo finì per trapassare l'abitacolo all'altezza della cabina di guida. La donna rimase ferita ad una gamba e venne trasportata in ospedale con la frattura del femore. Immediate le indagini da parte della squadra mobile, grazie ai filmati delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona, gli investigatori sono riusciti a identificare un SUV di colore scuro che fuggiva dalla zona. Si trattava del mezzo di Rizzardo, all'interno del quale venne trovato poi uno dei tre boss e li esplosi quella notte a Villorba. Gli altri due, oltre alle tre ogive, sono state recuperate sul posto. Secondo i primi accertamenti la pistola utilizzata sarebbe una calibro 9x19 di fabbricazione ciecoslovacca. I due sono stati arrestati per duplice tentato omicidio. In tambi si trovano attualmente rinchiusi in carcere a Santa Bona e le indagini continuano a percertare anche il furto subito da Rizzardo. Si tratta di persone che gravitano nell'area dei nomadi, si tratta di persone che non hanno un'occupazione precisa e che vivono nelle zone di campagna che sono prospicenti la città. L'emergenza a caldo. Vi avevamo proposto ieri un servizio sulla difficoltà di chi lavora nei cantieri stradali, proprio con giornate così estreme per il caldo. È ancora in coma l'operaio di Susegana, ieri svenuto in un cantiere, ad esempio. Secondo gli esperti questi sono i giorni più caldi destinati a battere ogni record per il mese di giugno. Oggi la colonnina di Mercurio a Treviso si è fermata a 35 gradi, ieri nel capoluogo della marca si sono raggiunti 38 gradi. A dimostrazione della calura intensa della giornata di giovedì, gli interventi da parte della SUEM che sono aumentati del 30% rispetto alla media giornaliera. 40% in più invece di chiamate al 118, passate dalle 250 che si registrano mediamente alle quasi 400 di ieri. Circa 100 interventi più o meno sono stati fatti proprio presso il domicilio delle persone che chiamavano, ma altri sì sono stati condotti in missione di soccorso per malori che si sono verificati appunto per strada, all'interno delle auto, in posti pubblici, all'interno dei luoghi di lavoro. E stava proprio lavorando in un cantiere a Susegana l'operaio di 44 anni di origini romene che ieri probabilmente a causa di un colpo di calore ha perso i sensi cadendo a terra. Trasportato all'ospedale di Conegliano in gravissime condizioni. In generale comunque molti degli interventi del SUEM hanno interessato pazienti con fragilità pregresse. Voi legata all'età o alla presenza di patologie soprattutto respiratorie o cardiache croniche che con l'esposizione al caldo per più giorni possono scompensarsi. La giornata più difficile sullo fronte caldo dunque è stata quella di ieri quando in generale nella marca le temperature hanno sfiorato i 40 gradi. Con un disagio fisico elevato sostenuto dalle temperature sopra la media, dall'assenza di ventilazione e da un alto tasso di umidità. Oggi temperature lievemente in calo e una maggiore ventilazione hanno migliorato la situazione ma rimangono comunque superiori alla media giornaliera gli interventi del SUEM e le telefonate già un centinaio alle 16 soprattutto per colpi di calore, traumatismi dovuti a caduti in strada a causa di malori. In questi giorni sono stati potenziati in modo strutturato i mezzi impiegati per il soccorso. Restano validi i consigli di sempre. L'Uso 2 ha provveduto già nei giorni scorsi a distribuire anche nei posti di lavoro una vademecum con le giuste condotte da adottare per non rincorrere in problemi fisici. C'è da dire che ad esempio il pronto soccorso a Padova ha dati contrastanti rispetto a questo servizio perché sono stati minori gli accessi, hanno detto sono stati molto attenti alle prescrizioni che abbiamo dato, quindi insomma non tutto il mondo è paese. Andiamo invece a vedere com'era la situazione a Venezia. L'estate è iniziata da una settimana e sta già bastonando in modo terribile Venezia e provincia con temperature massime che superano di una decina di gradi le medie del periodo. L'ondata è iniziata lunedì con un escalation di giornate torride e notate infuocate che stanno mettendo a dura prova nervi e salute dei veneziani. Ecco qualche dato giusto per far capire la situazione. In questi giorni il picco in provincia di Venezia è stato raggiunto giovedì pomeriggio a 90 di piave dove la colonnina di Mercurio ha toccato vuota 38 gradi e 6. A Cavarzer c'erano 38 gradi e mezzo e quasi ovunque le apparecchiature dell'Arpav hanno registrato temperature superiore ai 36 gradi e mezzo. A Venezia non sono mai stati superati i 35 gradi ma nel capoluogo la temperatura percepita è stata molto più alta a causa dell'umidità e dell'assenza di vento. Il problema è che da quasi un mese le temperature notturne non scendono più sotto i 20 gradi con picchi di 28 gradi e oltre e gli edifici non riescono quindi a rilasciare nell'ambiente il calore accumulato durante il giorno. Il risultato di questa situazione è un'estrema sofferenza per l'organismo umano tanto che lunedì è stato registrato al pronto soccorso dell'angelo di Mestre il maggior afflusso del periodo. Al triage sono arrivate complessivamente 340 persone ovvero una cinquantina in più della media molte delle quali a causa del caldo. Idem a Venezia con decine di casi in più rispetto alla media del periodo. Dall'Ultre confermano che le conseguenze del caldo si stanno facendo sentire in particolare sugli anziani e su coloro che hanno già patologie pregresse. I medici in pronto soccorso si trovano a gestire persone che vedono aggravare dal caldo problemi cardiaci e di pressione ma anche di insufficienza renale, malattie del fegato, malattie polmonari e cerebrovascolari. Anche i disturbi psichici sono resi più difficili da gestire dal caldo di queste ore. Più che problemi psichici invece potrebbero avere problemi di digestione i protagonisti di questo simpatico video girato in laguna dove i piaceri della balneazione e quelli di una bella grigliata vanno a braccetto per combattere la calura. Magari non rinfresca ma almeno fa sorridere. Invece i problemi che abbiamo sentito nei servizi che riguardano il caldo vengono acuiti quando ci sono situazioni di degrado. Il morto a Riese più decimo è proprio da cercare in quest'area grigia. La sua auto è ancora lì, all'esterno di questa casa persa nella piana tra Riese e Vallà ed è ancora chiusa come l'ha tenuta ieri pomeriggio quando all'interno ha trovato la morte. Georg Tinca, rumeno di 57 anni, da tanti anni viveva nella Marca. Dal 2016 era seguito dai servizi sociali dopo che la moglie l'aveva lasciato ed erano comparsi i primi sintomi di una tremenda malattia. Purtroppo soffriva da tempo di demenza, era un caso ormai conosciuto da tempo ai nostri servizi sociali. Fuori dalla sua macchina era disorientato e non funzionale e quindi probabilmente si è addormentato in macchina sotto il sole. E così l'hanno trovato nella serata di ieri quando gli assistenti avevano imboccato la laterale di via Callarga per portargli il pasto serale. Disteso su questi sedili che non accettava di lasciare, nonostante dal comune gli avessero proposto altre più comode sistemazioni. Ultimamente avevamo trovato una soluzione ideale, aveva trovato un posto dove parcheggiare la propria macchina che ormai non poteva più stare in strada, avevamo concordato gli accessi settimanali degli assistenti domiciliari per controllarlo e in questo modo dal punto di vista sociale era curato e al sicuro. Già perché per molti anni aveva vissuto in un parcheggio della zona industriale di Vallà in condizioni igienico-sanitarie precarie mentre qui, lo testimonia di sapone all'esterno, un bagno con doce era sempre a sua disposizione. Resta però il dolore per una morte che forse il ricovero seppur forzato in una struttura sanitaria avrebbe potuto evitare. Un uomo che la malattia aveva reso bambino e che come molti altri tristi casi questo bambino era stato dimenticato da se stesso nell'auto. E' successo la stessa cosa che capita ad un figlio, abbandonato in macchina sotto il sole. Lui un po' per la sua demenza, un po' per il disagio sociale nel quale si trovava, si è chiuso in macchina probabilmente è stata sotto il sole tanto tempo e lui è andato in shock, il povero drammico. Ci fermiamo per una breve pausa. C'è un po' per la sua demenza.